Il primo romanticismo Nei primi decenni dell'Ottocento, il razionale equilibrio prospettato dall'età dei lumi inizia a vacillare. Tanti fermenti prima rimasti sotterranei si fanno sentire, sconvolgendo l'Europa e gli animi delle persone. I moti per l'indipendenza animano gli stati, in cui la borghesia è ormai alla guida. Sono i primi anni del romanticismo. La musica risente di questo rinnovato contesto e presto si afferma come veicolo per esprimere i sentimenti e gli ideali dei paesi in lotta, ma anche come mezzo attraverso cui i compositori possono esprimere con originalità se stessi. Dopo secoli di musica alle dipendenze dei nobili, ora gli autori lavorano come liberi professionisti e sono meno vincolati da rigide committenze. Tuttavia, un occhio di riguardo verso il pubblico borghese è d'obbligo. I luoghi pubblici accolgono rappresentazioni di vario tipo. Si suona nelle sale da concerto, nei teatri e persino nelle piazze. Anche nei salotti si possono ascoltare composizioni come preludi e improvvisi, forme più libere che permettono ai musicisti di esprimersi al meglio e attraverso una scrittura meno controllata. Non manca la musica anche praticata nelle case, per hobby, diremmo oggi. Soprattutto il pianoforte diventa lo strumento attraverso cui vengono impartite lezioni a giovani dilettanti. Quest'ultimo, insieme ai fiati, come il clarinetto, è lo strumento per eccellenza della musica del primo romanticismo. Il centro propulsore del romanticismo è la Germania, dove c'è vivo interesse per la musica strumentale, che si manifesta nelle personalità di Felix Mendelssohn-Bartoldi, Robert Schumann e Karl Maria von Weber. Come compositore di punta di Lieder, brevi brani cantati con l'accompagnamento del pianoforte, c'è invece Franz Schubert. Francia e Italia sono gli altri due luoghi della musica romantica. Ricordiamo come compositori Frideric Chopin, Franz Liszt e Niccolò Paganini. Sapete che c'è anche una compositrice molto famosa che merita di essere citata? È Clara Schumann, ed è la moglie del compositore tedesco.